Sale a quota 8 il numero dei positivi a Caltanissetta, quasi il doppio in 48 ore. Sono 12 i positivi in più in tutta la provincia, 8 a Gela, 3 a Caltanissetta, 1 a Niscemi. Nessuno necessita di ricovero e sono attualmente in isolamento domiciliare. Sono invece stati ricoverati 2 pazienti provenienti da fuori provincia in malattie infettive, 3 pazienti guariti a Gela. In termini numerici adesso sono 52 i positivi in tutta la provincia, un incremento estremamente veloce. Di questi 13 sono ricoverati e 41 in isolamento domiciliare. La città con il maggior numero di positivi a Gela, 23 persone contagiate. Sale invece a 85 il numero dei positivi a Caltanissetta dall'inizio della pandemia, 279 in totale ad oggi in tutta la provincia.